Voglio gare i totteri! John, madonna lui quanto è generico Avatar col cappuccio John, lui è proprio il giocatore generico John Smith lui, si Joe Black Gioco Ono! Attacca, god Bravo John Ho dei totteristi eh Bella Fresh, bella Kings Non tengo di nero Abbiamo stappato col totterista, vinto Vai Attenzione Uno dopo E tali Oh, io non so leggere né scrivere, se lo giuro Sei due tottero Sei tu il mastro di chiavi? Il caso del piccione fa cacare Non, 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 non È un mana, fai un artefatto Non lo attivi mai Non serve L'ho tolto Cioè è meglio la sirena praticamente Che almeno è un 1-1 Domanda Una creatura Una creatura con word Attiva word Ad ogni trigger del caso Cioè se io ho quattro creature E devo buttaggi un raffin No Uno solo Ok Zelig è stato bello fino a poco tempo fa secondo me in realtà Sono state le edizioni di Zelig che la gente non ha visto a prescindere perché gli girava il cazzo della merda ma in realtà erano valide C'era stato il dubbio del caso su Van Ripper, Favratta, no? Potrei settimana finalmente di nuovo la carta Gidano La carta per pagare me che gioco a carte Grazie caro Io non so se butta subito il totterista e inizierà a fare schifo Ok Ok Altro Non mi segnao Cosa O Non mi segnao Non mi segnao ... Spelunchi ma non apra Analizzo il polline Sì è buono Lo acquisto Proprio totoro e si spinge Certo Va che rovina Il danno lo fanno quattro creature Se ne hai cinque Ciao ciacci Ovviamente fatemi fare un shout out Al Gidanon Il trono Il mio fratello suonò trono e muore Volo Questa è una partita contro il bot Praticamente Per vedere se il mazzo gira Il mazzo gira 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 Problemi ce l'ha Peccato che tu tristi è 1-1 Come lo volevi 2-2 anche Vabbè il mazzo funzionare funziona Poco a dire Non aveva pensato all'opzione di fare contenuti del video Tipo commander Piena l'arca e fa anche totteri rapidi Non penso Non credo Io attacco e poi tottero No no commander non è affatto Anzi ho fatto di recente Una live di commander Con i ragazzi di round 2 Con power E col Sjord viking Eh vabbè doveva succedere Però mi ha dato 3 bei Pippo Lozzi Colore brevi Che lo chiedo Ovvio Vabbè se togli glifo ti faccio il caso Quindi Domani Domani quel mazzo lì Lo facciamo con Luigi Dimmi Rigo Ha deciso di no Proprio più piccoli possibili Vediamo se c'è Sunfall di main Non ce l'ha Geardly che si pompa Quando sacrifichi qualsiasi artefatto Ho un piccolo problema Gearskai artefatti La mana base Che non è che ce l'ha brutta Non ce l'ha proprio Grixis con Anvil Anvil non c'è in ultimi Qualcuna le posso usare Eh voglio dire Godo L'aggressione diventa ben diversa Adesso Sirenella Sirenella Calza in culo Tu sorella Non è così Non era così la canzone della Disney Era simile eh Non era esattamente così No Stai per fare il bratto No Fa terra Fa terra Virgio Era quella Del rezzo scatto Sì 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 Allora Che me lo reprivi Ah non me lo reprivi Non me lo represso Ok Sdigiti digiti digiti Eh so danni però eh Scusi lei che me lo repriva Me l'ha represso L'hai represso È arrivato brawler Con la Zusena Dovina che lavoro fa Mia mamma Boh Commercialista La panettiera Perché non si è arrivato a viola Con la Zusena Sennò faceva la Brawler Ci sta La SART è un gran bel lavoro L'avrei voluto fare anch'io il SART Era una delle opzioni Che avevo in mente Di studiare Capirò SARTORI È veramente bello Come mondo Metti lì Che crei Poi quanto è bello Che non devi Cercare i vestiti Che ti piacciono Ma ti fai i tuoi Questa cosa qui Quanto è incredibile Quanto è il godo Più totale Bello come Fai un qualsiasi riferimento A stracotto Zapdos Impazzisci E mi meraviglio Che ancora non ci sia maffi Aspetta Se non parla il 4-4 Sono 2-4-6-7-8 Non parla il 4-4 muore Quindi da attacco gratis Sto attacco con tutto Gianni e Pino Picotto Ma calbare gli anime Che è successo No 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 Non bannare Zapdos No no Povero Zap No non bannare Zapdos Scalding ci sta Perché lui ha un milione Di cose Counterabili Che get lost Mi sono Ma i diri privi Li teniamo Sì Tolgo i warden Che è un detro Sono veramente il male Perché è di Bergamo Ho due modi di Bergamo Attenzione 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 Morde scusa Tu non sei di Bergamo Sa Secondo te Detto apposto FBI Open up Cosa vuol dire Ve lo hai scritto Non lo so Ma è bellissimo Allora credo di aver capito Bergende Ura Bergende Ota Vuol dire Bergamo di sopra Bergamo di sotto Tu gli hai risposto Bresa Che vuol dire Bresciano E lui Oh Madonna Santa Madonna Santa Si è capito Ok Fortissimo Il forte Traduttore Di Bresciano Poligo degli dei Beregende Ura Eh Fica il dio Però Oh raga Raduno a Brescia Come mai ogni volta Che viene fuori una città Siete tutti di quella città In chat È impossibile L'altro giorno Si era tutti Di Pescara Oggi siamo tutti Bresciani E portoghesi No di Pisa Non c'è nessuno No qualcuno c'è E dai Fica Ma nessuno di palestro Veramente Che legge L'eco del canavese Eh che cazzo Però La terza terra Magari Io a palestro Ci sono stato Un sacco di volte No aspetta Come si chiamava Era palestro Ah no Palestro È quella di Milano Io dico No è via palestro Quella dico io Eh no è via palestro Non è È una frazione Cioè è sempre È sempre Ivrea Non è palestro Palestro Ok godo Questo è una mano Questo è una mano godo Eh esatto Mi ricordavo via palestro Esatto Non palestro Ryan Started the fire Ora se mi rifà Quel genio di prima Di soul privation Del butto del culo Mi incazzo Ah Avete rotto il cazzo Oh Come scusa Sì 7-6 Attaccante di terzo È esattamente questa La combo Combo di non comuni Quindi immaginate Quante budget Volendo sto mazzo Ok 10 minuti a nanna Per Dario Piolo 7-6 Di cattivere Grazie Mauro No scherzo Torna Torna pure Ok Vinceremo di volante Lui fa un milione Di topini Sì volendo Posso comunque Trasformarlo Esatto Preferisco Dario Preferisco Mille volte Tu parli solo Bergames Bergames Bergamasco O milanese E' lo turno Ho appena scoperto Grazie del gioco Che la strappi E niente Mi è tornata la scimmia Per magic Godo Godo io Cazzo Cazzo Dentro Il cazzo Conosciuto come Cazzo Matrioska Sta per Vrattarmi la vita Vero Sta per fare Il sunfall Più forte Della storia Del mondo Ma Vabbè Meglio Dello schiaffone Oglione Sì Dai Ok 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 Ciao Jack Non è lethal Sono tanti ma non è lethal Qualcosa mi dice che ce l'ha Ne ha due di remuovi Dai non terra Non terra Non terra Non terra Non te godo Eh deve avere due di remuoval Non ce l'ha Non ce l'ha Godendo 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 Sono venuto qua godendo Vado via godendo Godendo Oh lui è Ye lo le Bob con la bfinale grossa è una marca ma è Bob è impossibile da leggere Bob in quella maniera lì però no no credo sia Bob ora lo vedo ok è Roots ho un reanimator strano ci avveco questi sono i certo che sono i Defeche Mode ovvio che sono i Defeche Mode oppure è un Triscadecafilo esatto ecco questo mazzo è famoso tristo e dai tu ho il teto questo è meglio per la curva bella Chrome quindi qui se mi fa Might su Zoetik non è un grosso problema questo è un problema ok Not bad Vedo che andrò a 19 Azzurri su artefatti in generale Vado ruzzendo perchè non me la trovavano historic Forse perchè c'hai geganta come filtro E' il filtro companion Vediamoglielo fare E' un bug io Ovviamente è un bug Cosa non è un bug Ok deve beccare una creatura Glifo mi raccomando Bravo Dino Tottero è lì perchè artefatto con life è volare Ed è Tottero Quindi è sia un'ottima base per incantarlo Con il glifo Con l'animation E sia diventa 3-3 volante life link Con il Totterista Che è Tanta roba Quindi si Secondo me non è da 4 per Si Cioè Si può non giocare 4 per Come lo gioco io Però mi sta dando soddisfazione La frase del world Non te ne frega un cazzo E 5-4 volante life link E' tanta roba Oh zunna ace Veramente Tutti e 43 Me li sento tutti quanti nel pertugio Forse è meglio in 3 per Si ma non è che ci sia troppo da infilare Il dinosauro di Afterman Ti incontro con i prototipi E' una merda vero Qual è il dinosauro di Afterman Tranquil free il back Che ci fai? Eh non c'è il Totterista Pirro Non c'è lui Standard Ah non so nemmeno quali sia Quello dici te Gigante diacane Penso proprio parerà Col 4-4 Non c'è il Totterista Ande Bob Comunque è vero Ora che l'ho visto è palese Bob Once you see it You can unsee it Dai radici Zono un maiale Zono un maiale Dai Dai Non lo so com'è in italiano Vedremo subito Prima porcellino Prima porcellino Stai a posto Giorto te Ho morto vero Che lui esilia Veramente forte Il mazzo smegma Sì Sì Va bene Troppe cose specifiche Se overside Dovete rischio di togliere Solità il mazzo Devo mettere solo Late specifico Verso quello Glifo full Firoxiano Non era Nithal Come Mica imbloccabile Mica imbloccabile Bob C'è una bella mano Sì Sì Spazio Spazio di Assassin's Creed Esce a luglio Che sarà un set Legale Anche in modern Quindi esce Anche su arena Mi sa Sarà come Il signore degli aneddoti A regola E' un vero peccato Se io avessi Tutti questi artefatti Creatura Vero Sì Tecnicamente Il set Estivo Universe Beyond Esce come Il signore degli anelli Quest'anno Modern Horizon Modern Horizon Va in Alchemy In Timeless Certo E a regola Anche Assassin's Creed Oh no Ma io sto facendo Delle creature artefatto E tu hai might E adesso Come fare A fare sesso Io non vedo l'ora Di aver fatto Il fantasy Ragazzi Io non vedo l'ora Di aver fatto Il fantasy Su arena Il prossimo anno Sarà un grande an 2025 Ash Si sa già Penso il fantasy Sarà uno di pochi set Che skipperò Vabbè Se ti puzza le palle Non è colpa di nessuno Lavati Ruggi Attento Ho sospeso Per molto me E consiglio Il chi vorrebbe Insegare il cartaceo Da collezione Bisogna vedere Quanti soldi C'ha da spendere Allora Allora Io vorrei andare Per il lethal Ma io non mi fido Di 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 Giubilante Vi Fa vincere le partite Il giubilante Quindi Evito Non esageratamente Allora Non credo che inizierà Il cartaceo Da collezione Se hai soldi Non esageratamente Puoi giocare Cartaceo Facendo Non il cartaceo Da collezione Ma il cartaceo Estremamente mirato A trovare Le carte Che mi servono E magari se le trovo Non proprio Minta Anche meglio Avete fatto il trading card game Di Final Fantasy Per me non esiste Uscirà Magic Sarà quello Il trading card game Di Final Fantasy Ma infatti Sarà un set standard No Sarà un universe beyond Legale Da modern in giù Quindi Su arena Alchemy Storic E timeless Sì è ovvio Gior Tom È come Fall Out È come il signore dei anelli I fan Lo vogliono Quindi sale di prezzo Madonna Vedo l'ora Di rompere Tutto Con Elko Con Dio buono Bahamut Bahamut Deve essere Fortissimo No Altro flash Ho sta tre Se a tre Puoi fare Lo zotiglif E con l'ultima Sciamana Io Volo Mamma mia Quanto Fabio Volo Quasi Giochi anche Medici Cartaceo Quasi Esclusivamente Limited Quindi Vi ricordo Ci vediamo Venerdì 12 aprile Alle 21 Al labirinto Di bollate Oh fuck Ho 35 Io eh Dopo il carcere Dopo il carcere Svista Che al dono Della svista E che nessuno Pesta Faccio Modo Mio E totterò E totterò D'addio Senza venire Percosso Perché io Perché io Invece posso E totteroni Addosso Glieli tiro Io Parola Di Emporio Roots 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 Spaccare Roots O Siviliare Il cimitero Però Prima che Abbia Roots Deve Siviliare Il cimitero Ho io ho E ha vinto Almeno Questo Non è Sul Thai Sul Thai Chiude Con Jace Questo Almeno Fa solo La Board Quasi Sti Cazze E' abbastanza Budget Sto Mazzo Si Decisamente Si La versione Sul Thai Di Roots E' Invincibile Se non Sarà Il mazzo Più Forte Al qualifier Per quello Mi sa Che è Molto Probabile Che io Porterò Orzov 12 Scartini Dalla Mano Della Serie Si ok Bello Quello Che Vuoi Fare Ma In Mano Tua Ci Sono Soltanto Dei Juggernaut E' L'unico Modo Per Fermarlo Per Versione Sul Time Vincere Lui a Nove Dove Avere L'Ital Se non Fa Cazzate Dai Bob Eh C'ho Due Palle Sole Belle Enormi E Bon 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 Profumate Ma Ce l'ho Due Sole Dove Dove Ai Lui Mi Zò Va bene Posso? Sì ma non hai Jace Non puoi fare OTK Stai facendo la bordo infinita Ma poi quando attacco io ho vinto Oh no Non l'ho più vinto adesso Cazzo Merda Così vince lui Cosa vuol dire OTK? One turn kill Eh vabbè ma fai soltanto batti Hai rotto il cazzo Il mio nome è batti Batti come batti cuore E non è per vero amore Shit Il mio nome è batti Ho il cervello che va a scartare Abbiamo perso Bella Pino Benvenuto Grande Bentornato nelle figurine Come lo passo Ha vinto Non posso fare niente Che palle Ah io volevo soltanto Tare i colpi Con i miei totteri E te invece Io volevo fare Invece lui ha fatto Più di me Niente Maledetto Roots Ah ma tanto con Orzov Ti distruggo Con Orzov ti rovino Sappi che ti vengo a cercare Con Orzov Grazie Pino per il Prime Benvenuto Punto schiamativo Telegram Anche No c'era tre bloccanti volanti Non riuscivo a passare Ti vengo a cercare Con Orzov Arrivo Sto arrivando Sappi Sto arrivando